Buongiorno a tutte le partecipanti e a tutti i partecipanti. Ringrazio lo staff AIAS dell'organizzazione per il supporto alla realizzazione di questo incontro e vado subito a condividere lo schermo per avviare le attività di questo incontro a distanza. L'esigenza di incontrarci oggi per affrontare questo argomento è connessa essenzialmente alla impostazione che stiamo dando alle attività del gruppo tecnico specialistico rischio chimico che io mi onoro di coordinare. Siamo al momento 10 unità che appartengono a tutti i settori, quindi settore industriale, settore consulenziale, settore pubblico. Io sono un dipendente pubblico e questa prima diapositiva è un atto dovuto nei confronti dell'ente a cui appartengo. Quello che io oggi esporrò non vincola assolutamente l'istituzione di cui mi onoro essere appartenente. Quello che riferirò oggi sono riflessioni che sono state fatte da me in primo luogo poi da i componenti del gruppo tecnico specialistico a valle di un'attività che ritengo molto importante dal punto di vista dell'operatività del professionista nell'ambito della salute e sicurezza. Aias mette a disposizione dei propri associati un servizio chiamato Aias risponde. A questo servizio si può accedere con quesiti. Sarà poi la segreteria che sulla base del quesito provvederà a smistarlo al gruppo tecnico specialistico più competente o ai gruppi che possono essere coinvolti nel fornire una risposta al nostro associato. Quindi per il nostro gruppo tecnico specialistico è stato un onore poter supportare nel corso del 2023 ben quattro nostri associati nel tentare di chiarire i loro dubbi in merito alla materia così articolata, complessa e particolare che è quella di gestione del rischio da agenti chimici, da sostanze pericolose. Quindi è nato essenzialmente da quella domanda che ci ha posto il nostro associato. Come faccio io a stabilire se un mio collaboratore è esposto o non esposto ad agenti cancerogeni e mutageni? Bella domanda, domanda spinosa, che dal momento in cui gli agenti cancerogeni o mutageni sono stati introdotti nella legislazione italiana di tutela del lavoratore, prima il decreto legislativo 626 del 94, poi il decreto legislativo 81 del 2008, ha generato non poche criticità. Perché? Perché gli agenti cancerogeni o mutageni sono molto particolari per le loro proprietà tossiche e per le modalità con cui le esercitano. Quindi a questo quesito si è aggiunto anche il nostro intento di procedere a divulgazione. divulgazione in questo passaggio legata al fatto che, come vedete dal titolo, è stata emanata nel 2022 dal Parlamento europeo e dal Consiglio una direttiva in materia di agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione. e questa direttiva dovrà essere recepita in Italia, dovrà essere recepita entro il 5 aprile di quest'anno. Ecco che quindi l'esistenza di un provvedimento europeo già vincola il datore di lavoro a perlomeno approcciare le attività che devono essere fatte per modificare, integrare, rendere più approfondita e dettagliata la propria attività di gestione, valutazione del rischio da sostanze pericolose e di conseguenza migliorare la tutela dei propri collaboratori. E poi si propone all'attenzione di chi fa igiene industriale un argomento molto interessante, cioè quello delle sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo. vedremo più avanti anche la natura di queste sostanze e la potenzialità dei loro effetti. Quando parliamo di sicurezza chimica, di rischio chimico ci stiamo occupando di qualcosa che nella nostra vita quotidiana è obiquitario. Questa diapositiva tenta di riassumere quali possono essere gli aspetti diciamo le azioni, le attività, i luoghi dove è possibile riscontrare la presenza di un rischio chimico. E quello che l'impianto normativo, l'impianto di legge oggi punta a affrontare con indicazioni per chi si trova a dover utilizzare prodotti chimici sono variegate in ragione dell'esigenza specifica di utilizzo o di prevenzione degli impatti negativi che queste sostanze, questi prodotti, queste miscele possono portare a seguito del loro utilizzo. Quindi avremo una tutela della salute che inizialmente parte proprio dal momento di avvio dell'esistenza di un prodotto chimico cioè la sua produzione o importazione e quindi la legislazione vigente ha delle regole ben precise che determinano la possibilità per il produttore o per l'importatore di commercializzare gli agenti chimici questi agenti chimici dovranno essere poi trasportati dal produttore sul luogo di utilizzo quindi ragioniamo in termini di catena di approvvigionamento ci sarà un distributore, ci sarà un fornitore, ci sarà un utilizzatore a balle ecco che anche nell'utilizzo a balle il legislatore si preoccupa dei soggetti che possono ricevere un impatto negativo dalla pericolosità che il prodotto chimico porta con sé e quindi mette in piedi un impianto legislativo che vada a tutelare chi per attività lavorativa deve entrare in contatto con la gente o viceversa tutti quegli ambiti di natura ambientale in cui l'agente chimico può esercitare i suoi effetti nocivi una menzione finale alla legislazione specifica che regolamenta determinate categorie di prodotti perché possono essere necessarie indicazioni ulteriori cautele ulteriori per la produzione il trasporto, l'utilizzo, la manipolazione e il destino di questi prodotti e quindi ci può essere una legislazione specifica per i farmaci, per i biocidi o per altre categorie di prodotti la legislazione vigente quindi viaggia su due binari paralleli un primo binario è costituito dal fatto che l'intenzione dell'Unione Europea è quella di dare per qualsiasi prodotto circolante sul territorio dell'Unione Europea o anche degli stati che aderiscono ad uno spazio economico più ampio di dare a tutti i prodotti dei requisiti li definiamo essenziali per la salute e sicurezza la commercializzazione dei prodotti non può avvenire se non sono rispettati questi requisiti essenziali a monte quindi viaggiano come sicurezza lasciatemi passare il termine ma non è corretto al 100% come sicurezza intrinseca del prodotto il prodotto poi arriva e deve essere utilizzato ecco che quindi il legislatore fa una raccolta di norme relative al prodotto relative alla tutela della popolazione e le inserisce in un impianto normativo legislativo che punta alla tutela della popolazione intendendo nella popolazione presente anche il sottoinsieme dei lavoratori ecco che quindi ci sono le norme che riguardano la tutela dei lavoratori e ci sono le norme che riguardano la tutela dell'ambiente questa è la politica europea politica europea che produce dispositivi di legge e qui vedete diciamo riassunti quelli che riguardano strettamente i prodotti chimici a monte per quello che riguarda la normativa di prodotto quindi ciò che il produttore e l'importatore devono rispettare per poter commercializzare il prodotto a valle riporto solo la parte di legislazione di origine sociale che riguarda la tutela del lavoratore quindi noi abbiamo il decreto legislativo 81-2008 nel quale sono integrate le disposizioni provenienti dalla direttiva quadro originaria dell'89 e dalle direttive specifiche riguardanti gli agenti chimici gli agenti cancerogeni o mutageni quest'ultima direttiva ha avuto quattro aggiornamenti di cui la direttiva 2022-431 costituisce l'ultimo aggiornamento emanato nel 2022 e già detto lo ripeto introduce nella tutela del lavoratore anche la riduzione dell'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione è un portato di quello che è l'approccio europeo alla sostenibilità delle sostanze tossiche e vedete diciamo in questi punti sono raggruppate tutte le possibili azioni volte a ridurre al minimo l'impatto della tossicità di un agente chimico in tutti gli ambiti in cui può essere esercitata anche attraverso misure diciamo di tipo innovativo perché si chiede che se un prodotto tossico deve essere sostituito con uno meno tossico o eliminato e quindi sostituito da un altro prodotto non tossico il ciclo produttivo e quindi il prodotto finale non abbia diciamo problemi dal punto di vista della qualità merceologica del prodotto perché io mi aspetto da quel prodotto delle prestazioni obiettivo che riguarda la legislazione di ambito sociale è anche quello di adottare dei limiti di esposizione dei lavoratori che siano pari a quelli della popolazione e vedremo nel seguito cosa vuol dire questo perché per gli agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ragionare in questi termini è obbligatorio ovvero ricondurre l'esposizione del lavoratore al valore minimo possibile possibilmente quello di esposizione della popolazione generale approccio tolleranza zero è sul versante della chiamiamola attività di controllo barra repressione concernente i prodotti chimici anche qui vedremo in che modo si esercita questo controllo e in che modo si esercita la repressione la situazione dei prodotti chimici delle sostanze in particolare fotografata esattamente al 2020 dalla Commissione Europea è questa noi abbiamo ancora scarse informazioni riguardanti molti la maggior parte troppe delle sostanze che circolano nell'Unione Europea stimate intorno alle 100.000 unità e come vedete solo per 500 di queste sostanze è disponibile una caratterizzazione del rischio perché si parla di pericolo ed esposizione quindi è stato caratterizzato il rischio soltanto per 500 di queste la diciamo l'intenzione dell'Unione Europea è quella di rendere il processo di valutazione della utilizzabilità di una sostanza chimica il più trasparente possibile cercando tuttavia e vedete nel nell'evidenza che vi ho proposto quale è l'impegno che l'Unione Europea ha preso passare dalla valutazione della singola sostanza quindi una sostanza una valutazione ad una valutazione che riguardi classi gruppi di sostanze che hanno struttura simile effetto simile eh esigenze di tutela simili ma tutto questo con un percorso di trasparenza che coinvolge tutte le parti interessate tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno interesse a esprimersi in merito alla gestibilità del rischio derivante dalla dall'utilizzo di quella sostanza sul territorio dell'Unione Europea perché questo è il metro di valutazione se la sostanza porta con sé un rischio troppo elevato e non compatibile allora la sostanza non potrà essere più commercializzata e ne sarà vietato l'uso e i prodotti che la contengono quindi in questo processo abbiamo più livelli perché perché c'è un forte stimolo a innovare innovare fin dall'inizio perché quando si parla di progettazione di sostanze chimiche sicure e sostenibili si sfida l'industria chimica ad essere il motore dell'innovazione questa innovazione poi deve tradursi in attività produttive che abbiano anche un minore impatto sull'ambiente sulla popolazione e sui soggetti che operano all'interno di questi cicli produttivi senza dimenticare un ulteriore avanzamento culturale che è in corso che è quello della promozione del riuso e del riciclo quindi come conseguenza la riduzione della presenza di sostanze tossiche anche nel ciclo dei rifiuti e delle materie prime e secondarie che così non andranno a impattare sull'ambiente dove sono depositate in discarica o nei processi dove vengono trasformate in energia ad esempio attraverso la termovalorizzazione quindi queste sono le direttive andiamo a parlare degli strumenti che l'Unione Europea ha messo in campo perché nell'ambito dei prodotti chimici delle sostanze e delle miscele abbiamo due strumenti molto importanti il primo è il regolamento CLP 1272 del 2008 classification labeling and packaging si occupa di classificare il pericolo quindi attribuire alla sostanza o alla miscela una classe di pericolo connotarla da un'intensità di questo pericolo quindi oltre alla classe assegna una categoria di pericolo far circolare questa informazione attraverso l'etichetta del prodotto dove deve essere riportato per esteso il profilo di pericolo che quella che quell'agente chimico sostanza o miscela pone di fronte a chi ancora non è entrato in contatto con il contenitore packaging contenitore che deve rispondere alle esigenze poste di sicurezza dal contenuto del contenitore e quindi dalla sua potenzialità di essere un esplosivo un infiammabile un cancerogeno che potrebbe può avere anche necessità diciamo di un confezionamento con caratteristiche anche meccaniche particolari di contenimento diciamo degli effetti portati dall'agente chimico non solo questo il CLP afferma afferma attraverso appunto l'etichetta che le informazioni debbono essere fatte circolare quindi l'utilizzatore che si avvicina al prodotto chimico deve sapere prima di entrare in contatto cosa ha di fronte anche una gestione corretta dell'emergenza tempestiva perché esistono i centri antiveleni che si occupano di supportare i sanitari che assistono soggetti colpiti da intossicazione nel suggerire l'antidoto al tossico al veleno che ha generato l'intossicazione l'ultimo obiettivo non è da meno perché parlare la stessa lingua è un modo per comprendersi meglio quindi se i prodotti europei debbono vorrebbero circolare anche all'esterno dell'Unione Europea debbono fare riferimento a una standardizzazione a livello globale delle modalità di classificazione del pericolo questo è il regolamento CLP comunicazione identificazione del pericolo e comunicazione del pericolo il CLP è un regolamento anche lui in evoluzione quindi recentemente è stata introdotta una nuova classe di pericolo per la salute che è quella dell'interferenza con il sistema endocrino per la salute umana che si aggiunge alle altre modificate in tempi passati perché il la data di emanazione del regolamento CLP è del 2008 il regime transitorio è durato fino al 2015 oggi pienamente in vigore con tutte le modifiche che sono intervenute nel corso degli anni ultima modifica questa qui l'introduzione della classe di pericolo dell'interferenza con il sistema endocrino dicevamo classificazione e intensità l'intensità è data dalle categorie di pericolo queste categorie di pericolo ci dicono a partire dal valore 1 maggiore criticità come il pericolo portato dal prodotto chimico ha probabilità o meno di esercitare il suo effetto tossico su chi entra in contatto con quell'agente chimico quindi le categorie 1 sono quelle a cui è riservata la certezza di un potenziale effetto tossico fino a scemare categoria 2 3 4 o diciamo altre categorie a scemare con l'aumentare del numero le categorie per gli interferenti endocrini qui mi dovrebbe essere esaltato il confezionamento della diapositiva sono le categorie 1 e la categoria 2 ulteriore strumento a disposizione dell'unione europea per la gestione degli impatti negativi derivanti dai prodotti chimici è il regolamento RIC RIC sta per registrazione registration valutazione evaluation autorizzazione authorization of chemicals quindi il percorso che in questo caso la sostanza qui non parliamo di miscele parliamo di sostanza ha dalla sua fase di produzione alla sua fase di utilizzo può prevedere tre fasi la prima obbligatoria qualsiasi sostanza circola sul territorio europeo deve avere un numero di registrazione e le informazioni su quella sostanza sono determinate uno dal suo volume di produzione perché la registrazione è obbligatoria per volumi di produzione del singolo produttore o importatore superiori a una tonnellata anno in funzione della pericolosità in funzione di un'ulteriore soglia perché quella sostanza può essere commercializzata in quantitativi superiori alle 10 tonnellate anno quindi avere un grado di diffusione nell'Unione Europea così ampio da poter coinvolgere un numero molto elevato di lavoratori e o cittadini popolazione quindi questa esigenza di registrazione obbliga le aziende che producono o che importano a fornire all'agenzia europea che si occupa delle sostanze chimiche European Chemical Agency Chemicals Agency a fornire in sede di registrazione quindi prima della commercializzazione una serie di informazioni previste in funzione del tonnellaggio e della pericolosità queste informazioni potranno essere sottoposte ad una valutazione di merito quindi la sostanza potrà avere un percorso di maggior approfondimento della conoscenza delle sue caratteristiche tossicologiche della sua diffusione nei cicli produttivi sul territorio europeo dell'impatto che questa diffusione ha sul territorio e sull'economia dove viene utilizzata i gruppi i comitati che si occupano di fare questa valutazione sono essenzialmente due all'interno di questa agenzia il comitato che fa valutazione del rischio quindi risk assessment committee che si preoccupa degli aspetti di salute un secondo comitato è il SEAC socio economic assessment committee e questo valuta l'impatto socio economico di un possibile maggiore controllo della sostanza a livello dell'unione europea come si esercita il controllo attraverso due meccanismi uno è quello dell'autorizzazione per cui l'utilizzo della sostanza il quantitativo di utilizzo addirittura i tempi di utilizzo sono posti sotto il controllo diretto della della commissione europea che autorizza uso tempi di utilizzo quantitativi di utilizzo il secondo meccanismo la restrizione interviene vietando usi vietando commercializzazione vietando applicazioni particolari il ragionamento è molto semplice se pensiamo diciamo all'ultimo caso di restrizione intervenuto quello sui disocianati questa restrizione prescrive che i prodotti che contengono più dello 0,1% di disocianato possano essere utilizzati in un ciclo produttivo soltanto da personale che abbia ricevuto un'adeguata formazione dall'altra parte altro esempio è quello degli ptalati che sono vietati per la produzione di gomme perché gli ptalati sono dei plasticizzanti usati nel settore delle materie plastiche non possono essere utilizzati nelle gomme che vanno a costituire tettarelle e ciucci per bambini perché si è visto che la saliva dei bambini estrae gli ptalati che sono degli interferenti endocrini ecco che quindi due meccanismi di controllo operano per dare una soluzione a eventuali criticità portate dal profilo di rischio perché in questo caso il rich si occupa di rischio derivante dall'utilizzo della sostanza quando questo profilo di rischio è critico intervengono i meccanismi di controllo vedremo in seguito come dire anche una lista degli eventi perché l'ho inserita in un altro passaggio diciamo del dell'incontro di oggi cosa dice il regolamento rich adotta uno slogan molto molto semplice dice se tu non mi fornisci i dati tu produttore o tu importatore non puoi commercializzare quindi no data no market e dice sì mi sta bene che il prodotto circoli con un'etichetta che mi informi sul pericolo mi comunichi la presenza del pericolo però tu produttore tu importatore devi anche preoccuparti di chi poi a valle utilizzerà quella sostanza e quindi la sostanza deve circolare quindi deve essere deve come dire percorrere la catena di approvvigionamento accompagnata da un documento che ne rappresenti il profilo di rischio e si chiama scheda dei dati di sicurezza quindi il distributore e il fornitore comunque dovranno far circolare insieme al prodotto insieme alla sostanza la scheda dei dati di sicurezza che succede? si attiva per il riccio anche un meccanismo di ritorno perché? perché se l'utilizzatore a valle verifica che sta utilizzando quella sostanza con per un uso che non è stato registrato e se la sta utilizzando con modalità che non sono quelle indicate dal produttore quindi misure di di controllo operativo e misure di gestione del rischio deve ragionare con il fornitore o con il produttore per fare in modo che possa essere registrato l'uso o quello che viene chiamato scenario di uso che a lui necessita se il produttore o il fornitore rispondono picche e quindi se ne disinteressano sarà l'utilizzatore a valle che dovrà contattare l'agenzia europea e comunicare chiedere la registrazione dell'uso che lui intende farne perché non coperto da altre registrazioni quindi è un meccanismo che si autoalimenta anche da ciò che il versante utilizzatore a valle può trasferire come informazioni all'agenzia europea che rende disponibili pienamente disponibili tutte le informazioni non sensibili dal punto di vista della protezione industriale che vengono prodotte da chi registra le sostanze quindi esiste una banca dati oggi diciamo aggiornata integrata modificata interrogabile da chiunque con il nome della sostanza o con il suo identificativo di tipo chimico passiamo come dire a quello che è il punto centrale di questo incontro cosa vuol dire introdurre nell'ambito della legislazione sociale anche la valutazione del rischio da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione ecco vuol dire integrare il capo 2 del titolo 9 del decreto legislativo 81-2008 perché la direttiva 431 ha integrato la direttiva madre la 37 del 2004 introducendo le sostanze reprotossiche per sintesi le chiameremo nel seguito così le introduce e evidenzia un dato di fatto che proviene dalla tossicologia queste sostanze possono avere un effetto soglia o possono non averlo ovvero se hanno un effetto soglia e io sono a livello di dose assorbita inferiore all'effetto soglia o la certezza di non avere un impatto negativo derivante dalla nocività della sostanza dalla pericolosità della sostanza le sostanze che non sono dotate di effetto soglia possono avere questo effetto negativo anche a bassissime dosi questa è un'importante distinzione in ambito di igiene industriale che ci indirizza poi in tutta quella che è la scelta delle misure di prevenzione e protezione che devono essere messe in campo attenzione non sono solo due le categorie con o prive di effetto soglia ce n'è anche una terza che è quella delle sostanze reprotossiche per le quali gli studi ancora non hanno chiarito se esiste o meno questo effetto ecco che quindi la stessa direttiva mette tre definizioni sostanza reprotossica sostanza reprotossica con valore di soglia sostanza reprotossica senza valore di soglia quindi ci si creano tre nuove liste di sostanze ad effetto reprotossico le cui proprietà devono essere tenute in conto perché differenti cosa molto importante questa direttiva introduce nella direttiva 37 il monitoraggio biologico lo introduce solo per il piombo afferma che saranno introdotti ulteriori valori biologici quindi si creerà è stato creato un allegato tre bis che per ora contiene solo il piombo ma con che criterio l'allegato tre bis contiene il limite di riferimento del piombo nel sangue che non deve essere mai superato perché è un valore vincolante come per gli agenti cancerogeni e mutageni del resto per i quali sappiamo non esserci un effetto soglia ma solo un effetto probabilistico dell'insorgenza delle neoplasie oltre questo dà indicazioni anche per la sorveglianza sanitaria perché perché dice attenzione questo è il limite di riferimento ma se ricorrono queste condizioni il lavoratore deve essere sottoposto obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria quindi non c'è più la discrezionalità del medico e questa sorveglianza sanitaria è obbligatoria affinché il lavoratore possa continuare ad essere esposto al piombo sono concetti importanti perché perché determinano un buon livello di tutela come un buon livello di tutela sia quando quando si riconosce che occorre minimizzare l'esposizione a cancerogeni certi caso del benzene per cui con vari gradini che tengono conto della dell'impatto socio-economico della decisione nel duemila e ventisei il limite di esposizione professionale a benzene verrà portato ai valori che vedete rappresentati lì che sono molto più bassi di quelli attualmente vigenti e questo vuol dire che si devono fare misurazioni vuol dire che si deve valutare se si è conformi o meno al rispetto di questo limite sempre nel percorso di miglioramento della tutela di incremento delle conoscenze tossicologiche delle sostanze della volontà del legislatore europeo di tutelare classi particolari di popolazione come quella dei lavoratori due nuovi cancerogeni vengono introdotti l'acrilonitrile e il nichel le quattordici voci che integreranno che costituiranno integrazione dell'allegato tre alla direttiva trentasette quindi dovranno essere recepite nella legislazione italiana sono le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo che passano dal capo uno passeranno al capo due se di categoria uno a o uno b abbiamo visto in precedenza le categorie dei tossici per la riproduzione categoria uno a categoria uno b categoria due categoria a sé stante tossicità in fase di allattamento trasmissione dell'agente nocivo attraverso il latte materno quindi tossici per la riproduzione di categoria uno a o uno b andranno valutati con le indicazioni del capo due del titolo nove del decreto ottantuno quando verrà recepita questa direttiva sono stati trasferiti diciamo dalla corrispondente allegato della direttiva sugli agenti chimici a questo allegato 3 dei cancerogeni mutageni tossici per il ciclo riproduttivo l'allegato 3 conterrà nella colonna osservazioni l'indicazione o meno della presenza di un valore soglia questo a supporto di chi fa la valutazione e questa indicazione però al momento non è stata messa quindi è una forte criticità perché perché qualcuno mi dovrebbe dire io sono un chimico mi dovrebbe dire guarda ha un effetto soglia quindi se stai sotto determinati valori di dose assorbita hai la garanzia che il lavoratore è all'interno di un'area di rischio accettabile non ancora compare questa indicazione sull'allegato 3 della direttiva altro aspetto importante ma altrettanto critico è il fatto che questa direttiva prefigura una maggior tutela per gli operatori che possono entrare in contatto con farmaci ad alto grado di tossicità si parla degli antineoplastici questi questi farmaci obiezione che può essere fatta sottostanno ad un'altra direttiva ad altre direttive che sono quelle che regolamentano la produzione farmaceutica no e quindi perché entrano nella tutela del lavoratore perché il lavoratore deve manipolarli per preparare le terapie per i pazienti la riflessione che faccio io mia sì i farmaci non sono classificati per la loro pericolosità secondo il regolamento CLP perché perché sono farmaci quindi sottostanno ad altre disposizioni di legge ma se io formulo un farmaco a partire da una sostanza pericolosa creo una miscela pericolosa allora sì il principio attivo all'interno o la miscela che mi costituisce il principio attivo devo sapere se è pericolosa o no devo classificarla perché perché magari io sono un produttore terzista di principio attivo e lo vendo alla casa farmaceutica X che poi aggiunge gli additivi e fa la formulazione finale insieme alla modalità di somministrazione quindi i farmaci non hanno classificazione di pericolosità secondo il CLP ma secondo il CLP le sostanze che li compongono o le miscele debbono essere così classificate riconosce che diciamo gli effetti sono a più breve termine per le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo e quindi l'esigenza di conservazione del registro degli esposti ad agenti cancerogene o mutageni e delle cartelle sanitarie di rischio per almeno 40 anni è ovvio che non interesserà i reprotossici e quindi elenchi quindi il registro degli esposti e cartelle sanitarie di rischio per i reprotossici dovranno essere conservate soltanto 5 anni quindi si può pensare ad un registro degli esposti ad agenti reprotossici con modalità di gestione simili a quello degli agenti cancerogeni o mutagini dicevamo è stata entrata in vigore il 5 aprile 2022 il limite per il recepimento da parte degli stati membri è al 5 aprile 2024 quindi questo è diciamo il contenuto della direttiva andiamo molto rapidamente a ripassare alcuni concetti per arrivare poi alla parte di chiusura che è un'ipotesi di lavoro che il nostro gruppo rischio chimico ha elaborato e su cui si sta ragionando per la divulgazione agli associati e non solo a loro attraverso la rivista la tossicità è una caratteristica intrinseca della sostanza o della miscela del prodotto chimico quello che noi sperimentiamo come effetto tossico quindi la presenza di una malattia o di un evento infortunistico pensiamo alla corrosione da agenti chimici è la manifestazione del rischio e questa è una proprietà quantitativa perché dipende dalla caratteristica intrinseca di tossicità e dal modo quantità livello durata dell'esposizione all'agente tossico per i reprotossici l'effetto tossico è a livello della funzione sessuale quindi ci può essere una riduzione della funzione sessuale a livello della funzione riproduttiva riduzione della ovulazione o della produzione di spermatozoi o modifica della funzionalità dei gameti maschili e femminili può intervenire nello sviluppo del feto in fase di gravidanza della donna e come abbiamo detto l'agente tossico può essere trasferito al neonato attraverso il latte materno per allattamento possiamo dire che questo effetto tossico legato alla reprotossicità è un'interferenza con il sistema endocrino il sistema endocrino ha molti punti su cui l'effetto negativo può essere esercitato e sono molte le potenziali vie con cui possiamo essere esposti all'effetto di interferenti endocrini e o sostanze reprotossiche da molte origini perché perché c'è una lista di circa 300 sostanze che già hanno e classi di sostanze che già hanno una loro classificazione come interferenti endocrini e possono essere presenti in vari prodotti con cui possiamo venire in contatto per esercitare come abbiamo detto effetti negativi di vario livello impatto tutti sulla diciamo funzione connessa alla riproduzione elemento di forte attenzione è che la l'effetto sulla riproduzione può essere diciamo trasferibile ovvero l'esposizione all'agente tossico può essere sperimentata dal padre che trasmette gli effetti attraverso il liquido seminale vi può essere una riduzione della fertilità ma sono stati riscontrati casi di incremento dell'aborto spontaneo quindi mancato insediamento del dell'ovulo fecondato nell'utero e di nascite premature per effetti sul feto anche l'esposizione materna attraverso il latte abbiamo detto può avere interferenza nello sviluppo del neonato lo ribadisco perché quando ragioniamo in termini di lavoratrici madri non è soltanto il periodo di gravidanza che deve essere tenuto sotto monitoraggio da chi si occupa di valutazione del rischio e di sorveglianza sanitaria ma anche il periodo dell'allattamento per evitare che la madre che allatta sia esposta ad agenti tossici che possono essere trasmessi attraverso il latte entriamo nella parte conclusiva perché comunque gli obblighi del datore di lavoro ci sono derivano alcuni anche dal RIC e dal CLP perché perché il RIC ha un impianto sanzionatorio molto più impattante dal punto di vista economico rispetto a quello del decreto 81 quindi il datore di lavoro deve e queste sono le liste diciamo il regolamento CLP uno se ne interessa perché o vengono introdotte nuove classi di pericolo oppure può cambiare la classificazione di una sostanza e quindi io debbo variare debbo integrare la mia valutazione del rischio se cambia la classificazione di una sostanza il RIC genera al proprio interno delle liste di attenzione la prima è quella che mi dice guarda questo elenco di sostanze è sotto l'attenzione della comunità quindi ci sembra che possano darci dei problemi dal punto di vista dell'impatto quando i problemi sono di un certo livello da questa lista la sostanza può essere inserita in una lista di maggiore attenzione quella delle sostanze aventi un livello di preoccupazione molto elevato svhc substances of very high concern e quindi questa lista è una sorta di sala d'attesa per le valutazioni successive che mi diranno guarda questa sostanza deve essere messa sotto regime di autorizzazione e quindi entrerà nella lista dell'allegato 14 del rich oppure deve essere addirittura messa sotto restrizione e quindi entrerà nella lista dell'allegato 17 del rich e questo ovviamente sempre che io faccia un utilizzo di una sostanza che sia conforme alle indicazioni del rich e del clp perché oltre a valutare la sostituzione con prodotto di minore impatto devo anche verificare che l'uso della sostanza sia stato registrato come avevamo detto prima per la catena di ritorno dell'informazione dall'utilizzatore a valle all'agenzia europea devo anche verificare che le condizioni operative e le misure di gestione del rischio siano conformi a quelle registrate e questo sulla scheda dei dati di sicurezza ne ho indicazione soprattutto in quella estesa da predisporre da parte del produttore importatore quando i volumi sono superiori alle 10 tonnellate che deve contenere anche gli scenari specifici in cui le condizioni operative e le misure di gestione del rischio debbono essere esplicitate per quel particolare scenario ovvero insieme delle operazioni in cui quella sostanza entra nel ciclo produttivo passando poi alla parte della tutela del lavoratore è ovvio che questo aggiornamento sulla normativa di prodotto deve essere eseguito anche da un aggiornamento della legislazione di tipo sociale perché e lo stiamo vedendo la 22431 innova la direttiva originaria cancerogeni e mondagini e quindi dobbiamo sapere come prepararci al recepimento delle indicazioni nella legislazione italiana per valutare il rischio da sostanze pericolose e poi ovviamente predisporre quello che è il resoconto delle nostre attività e il manifesto di intenzione per quello che è il percorso di miglioramento che il decreto 81 ci chiede perché oltre al documento di valutazione dei rischi nel caso nostro c'è anche quello specifico per rischio da sostanze pericolose bisogna ipotizzare un percorso di miglioramento documentato l'Unione Europea chiede semplicemente attraverso questo slogan lo stop principle di procedere secondo dei passi logici che conosciamo perché perché S sta per substitution o procedo all'eliminazione dell'agente pericoloso o procedo alla sostituzione con un agente pericoloso mi starebbe bene anzi sarebbe un percorso da come dire premiare dove dove non posso misure tecniche e quindi adozione di ciclo chiuso compartimentazione del luogo dove si produce l'inquinante e aspirazione il più possibile prossima alla fonte di emissione dello stesso inquinante misure tecniche misure organizzative quantità di prodotto pericoloso necessaria per la produzione giornaliera numero dei lavoratori minimo rispetto a quello che può essere un profilo di esposizione critico misure organizzative fino ad arrivare al fallimento che io ritengo sia del del datore di lavoro che è quello di dover fornire dei dispositivi di protezione individuale la sostituzione per mia esperienza di lavoro visto che esamino circa un centinaio di documenti di valutazione del rischio chimico ogni anno la valutazione della sostituzione non sta da nessuna parte nessuno di questi documenti contiene la rendicontazione di questo percorso prioritario esistono metodi per la valutazione esistono siti che hanno la soluzione già pronta già confezionata perché praticata da altri comunque quando io parlo di rischio da agenti da sostanze pericolose devo fare delle valutazioni che sono preliminari prima che io avvi il ciclo produttivo perché me lo dice il titolo 2 io debbo eliminare il rischio o ridurre il rischio al minimo e quindi per il titolo 2 dove c'è produzione di sostanze non salubri devo predisporre ventilazione barra aspirazione localizzata per allontanarle e poi valuto valuto se sono agenti chimici pericolosi valuto e ho questa opzione valutare diciamo in maniera preliminare anche attraverso algoritmi di calcolo o viceversa se sono in condizioni più critiche quindi rischio non irrilevante per la salute non basso per la sicurezza devo approfondire la valutazione farne una dettagliata che per gli agenti cancerogeni e le sostanze in regime di autorizzazione è obbligatoria non vi è la possibilità di accedere a questa valutazione preliminare modifiche di processo nuove sostanze all'interno del ciclo variazione della classificazione mi portano all'aggiornamento della mia valutazione e comunque sempre prima dell'avvio del ciclo produttivo tutti i processi tutti le attrezzature di lavoro i sistemi di prevenzione e protezione che il titolo 2 mi dice debbo mettere in campo debbono essere allestiti compreso la gestione dell'emergenza devo ragionare prima dell'avvio del ciclo produttivo nel processo di valutazione del rischio mi limito semplicemente a segnalare un fatto molto semplice troppe valutazioni del rischio ipotetiche valutazioni del rischio si fermano all'analisi del rischio cioè mi dicono bene il rumore è 82 decibel ok non è una valutazione del rischio perché io poi devo stabilire attraverso un limite di riferimento se io sono in condizioni di conformità rispetto a quello che è il disposto legislativo del decreto 81 quindi dovrò confrontare il valore 82 con il valore 80 solo allora potrò dire di aver fatto una valutazione del rischio e questo è importante perché chi sono i soggetti coinvolti è il datore di lavoro obbligo non delegabile che si appoggia alle competenze tecniche di soggetti che hanno un percorso professionale qualificato e a competenze sanitarie di soggetti che hanno altrettanto un percorso di competenze professionali certificato medico competente responsabile del servizio e addetti al servizio sono i collaboratori del datore di lavoro che lo devono assistere nel processo di valutazione dei rischi questo vale per gli agenti chimici pericolosi quando il rischio è non irrilevante per la salute e basso per la sicurezza connettore logico END e quindi devono essere verificate entrambe le condizioni per il decreto 81 entra in gioco la misurazione dell'esposizione perché soprattutto se io ho una sostanza con valore limite di esposizione professionale debbo verificare che non è superato quel limite quindi devo fare misurazioni nel caso degli agenti cancerogeni queste misurazioni oltre ad aver fatto tutto quello che mi viene chiesto eliminazione confinamento del processo riduzione dell'esposizione dopo aver fatto questo io devo comunque misurare questo me lo dice il decreto 81 perché perché comunque debbo dare conto che quello che io ho messo in campo come aspirazione quindi protezione collettiva è efficace nel rendere minima l'esposizione del lavoratore misurare che cosa vuol dire se per gli agenti chimici pericolosi il riferimento del decreto 81 alle norme tecniche quindi io ho preso qui le due che solitamente sono utilizzate per la programmazione la progettazione di una campagna di misure in ambiente di lavoro se per gli agenti chimici pericolosi il riferimento alle norme tecniche è a un elenco menormente indicativo nell'allegato 41 nel caso degli agenti cancerogeni i metodi adottati per la misurazione devono essere conformi quindi c'è l'obbligo di applicazione di questa normazione tecnica cambia notevolmente la questione perché applicare la 689 vuol dire che chi la applica alla fine mi deve dare un resoconto che contenga tutte queste informazioni e deve essere un valutatore con esperienza per poter progettare il campionamento realizzare la fase analitica e come vedete in fondo procedere agli adeguati confronti sia per la validità dei dati che sono stati ottenuti che per la loro posizione rispetto a un limite di riferimento non è cosa da poco questo è un aspetto poco conosciuto del decreto 81 una stessa sostanza può esercitare più effetti ecco che quindi io posso avere un effetto cancerogeno mutageno tossico per il ciclo riproduttivo ma un altro effetto che può essere sensibilizzante che può essere irritante per l'occhio devo considerare tutti gli effetti quindi tutte le classi di pericolo che caratterizzano quella sostanza o quella miscela devono essere tenute in considerazione perché io alla fine quello che io devo andare a confrontare è il rispetto per quelle sostanze che hanno un limite di esposizione professionale codificato devo andare a verificare il rispetto di questo limite ecco che quindi interviene il processo la parte della ponderazione perché io misuro la presenza nell'ambiente di lavoro e vado a valutare attraverso un rapporto l'indice di rischio quindi io sul documento di valutazione dei rischi mi aspetto di leggere degli indici di rischio per le sostanze dotate di una valuta di un limite di esposizione professionale che poi lo posso prendere da liste europee italiane o da qualsiasi altra lista che tenga sotto controllo quella particolare sostanza nessuno mi verrà a dire nulla se io faccio questo tipo di approccio tedesche australiane inglesi finlandesi qualsiasi nazione abbia un suo livello di riferimento io lo posso adottare perché perché è un meccanismo di tutela quindi devo avere questi indici di rischio indici di rischio e mi dice l'ottantuno che io devo valutare anche per il potenziale effetto cumulativo sul singolo organo quindi tutte le sostanze che hanno un effetto su un organo bersaglio debbono essere considerate contemporaneamente a costruire un indice di rischio composito quando è che io sono in zona di conformità è quando l'indice di rischio è inferiore all'unità perché io l'ho confrontato con un livello di riferimento ecco che quindi ho fatto la valutazione del rischio se le cose fossero semplici come le sto esponendo in questo momento allora non ci sarebbe necessità per me di fare questi interventi perché non tutte le sostanze hanno dei limiti di esposizione professionale però attenzione torniamo un attimo indietro alla legislazione di prodotto la registrazione di una sostanza presuppone che sia stata fatta una valutazione da parte del produttore di quello che è un livello derivato se non esiste limite professionale un livello derivato in cui o non ho riscontrato effetti di danno dall'esposizione oppure se non ho questo benedetto effetto foglia quindi un effetto deterministico pieno se ho riscontrato il minimo effetto derivante dall'esposizione a questa sostanza quindi dn e l o dm e l sono valori disponibili e si possono estrarre da documenti che noi abbiamo a disposizione perché perché quando il soggetto compila il produttore o l'importatore compila la scheda dei dati di sicurezza nella sottosezione 8.1 oltre ai limiti professionali dove presenti deve anche introdurre i valori dn e l o dm e l per quella sostanza a me se ha un effetto soglia o se non ha un effetto soglia e questo è un passaggio estremamente importante perché perché se noi ragioniamo in termini di agenti cancerogeni mutageni e adesso tossici per il tipo per il ciclo riproduttivo e ragioniamo su quelli che non hanno un effetto soglia ecco che quindi interviene come dire la magistratura quando c'è un'esposizione con danno oppure in anticipo qualcuno che ci dà degli indirizzi e l'indirizzo che ci è stato dato dal coordinamento tecnico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e province autonome è quello di dire io ho un soggetto esposto a cancerogeno o mutageno tossico per il ciclo riproduttivo all'epoca della 62694 non se ne parlava proprio o un lavoratore esposto se il suo livello di esposizione è superiore a quello della popolazione generale questo mi crea qualche problema perché mi equipara il lavoratore alla popolazione generale e andiamo a vedere dove sta il problema facciamo un esempio di una sostanza che ha un valore limite di esposizione professionale non è un cancerogeno va bene però vado a confrontare il dato del valore limite di esposizione professionale presente sul decreto 81 e vado a verificare quale è il valore del dnl perché questa sostanza ha un effetto soglia che mi tutela quando io debbo registrare perché perché io registro per tutti i possibili utilizzi e per tutti i possibili impatti quindi lavoratore ambiente e consumatore quindi popolazione generale come vedete il limite per la popolazione è più basso quindi abbiamo forse un'opportunità perché dove esiste un dnl dove esiste un dm el per le sostanze cancerogene mutagene e tossiche per il ciclo riproduttivo tenendo presente quello che ci dice la linea guida delle regioni e delle province autonome noi possiamo ragionare in termini di definizione del concetto di lavoratore esposto in ragione del livello di concentrazione media dell'agente rilevato nell'ambiente di lavoro per le otto ore lavorative e vedete che in questa tabella presenza o non presenza di valori limite per la popolazione o di valori dnl dml questo noi non l'abbiamo come dire ipotizzato abbiamo fatto la casistica complessiva quindi si può ragionare in termini di esposizione o di potenziale esposizione quando quando io supero il valore limite ambientale noto per la popolazione oppure supero il dml per la sostanza senza soglia sostanza cancerogena mutagena o tossica per il ciclo riproduttivo o il dnl per quella sostanza tossica per il ciclo riproduttivo che ha un effetto soglia è importante avere questi punti di riferimento perché perché noi poveri chimici viviamo nell'incertezza la definizione di rischio irrilevante per la salute non è quantitativa quando troviamo dei numeri a cui appoggiarci per dare delle indicazioni ecco che questo ci agevola molto nel lavoro soprattutto quando si devono fare reso conti secondo la uni n689 quale limite io adotto se adotto dnl e dml ho i valori definiti per la popolazione generale quindi molto più cautelativi rispetto ai valori limite di esposizione professionale soprattutto quando non c'è un effetto soglia e questo diciamo che cosa comporta a livello pratico perché il nostro slogan come gruppo tecnico specialistico in futuro lo proporremo sarà praticare l'igiene industriale acquisite tutte queste informazioni io come faccio a fare ad adempiere quello che la legge mi chiede di fare quindi il servizio di prevenzione e protezione avrà fatto la sua analisi del rischio e la sua stima del rischio quindi le misurazioni che cosa ci si fa bene si trasferiscono al medico competente perché perché il medico competente conosce sa se quella sostanza ha una curva dose risposta con un effetto soglia quindi in ragione della presenza o meno in ragione dei limiti livelli che chi fa analisi del rischio sa oggi che esistono quindi valore limite di esposizione professionale e valori derivati registrati nella banca dati dell'agenzia europea sulla base di questi limiti e sulla base dei livelli misurati il medico competente dovrà generare tre classi di tre cohorti di lavoratori il lavoratore esposto il lavoratore potenzialmente esposto perché si devono considerare anche situazioni non facilmente prevedibili spandimenti ambientali tutto quello che volete e il lavoratore non è esposto sulla base di questo il medico competente ricordiamoci l'esempio del piombo per le indicazioni della sorveglianza sanitaria attiverà o meno la sorveglianza sanitaria solo chi solo il lavoratore per cui è attiva la sorveglianza sanitaria deve essere registrato nel registro degli esposti possibilmente con il livello di esposizione misurato negli ambienti di lavoro chiaro che questo livello può non essere il livello minimo e quindi il servizio di prevenzione e protezione sulla base di questa come dire conseguenza potrà ipotizzare un percorso di miglioramento verso la minimizzazione del rischio e quindi rifare il percorso e magari ridurre il numero degli esposti iscritti nel registro in ottica di miglioramento della tutela del lavoratore quindi per chiudere l'incontro non dimentichiamoci che il medico competente è una figura fondamentale nel processo di valutazione dei rischi perché ha le competenze per individuare sulla base della sostanza che gli viene sottoposta in esame la presenza o meno di un effetto soglia e quindi indicarci anche tecnicamente verso misure preventive e protettive di maggior tutela nel caso non ci sia un effetto soglia quindi sarà il medico competente a stabilire se il lavoratore è esposto o meno e l'obiettivo della componente tecnica quindi del servizio di prevenzione e protezione è quello di riportare tutti i lavoratori nell'area di rischio accettabile mi pare che a questo punto si siano chiariti ruoli e responsabilità per un percorso virtuoso che porti al minore impatto possibile di queste sostanze ad elevato impatto sulla salute dei lavoratori vi ringrazio dell'attenzione e sono a disposizione se ci sono quesiti per chiarire meglio quello che io oggi ho tentato di esporvi con le mie limitate capacità comunicative beh limitate ce ne avessero in tanti queste limitazioni allora io ringrazio innanzitutto tutti coloro che hanno partecipato eravamo 200 tolgo la condivisione ok erano tante persone che hanno partecipato molto interessate ho visto tanti soci tanti amici di Aias e quindi benvenga anche tante altre persone che partecipano spesso alle attività ci sono alcune domande che ti vado brevemente a esporre allora la prima è questa dice questa persona mi interessava ciò che riguarda l'esposizione alla silice e l'obbligo di compilazione del registro degli esposti il percorso è identico non cambia se consideriamo la silice libera cristallita come inclusa nell'allegato con il suo valore limite di esposizione professionale tra parentesi la direttiva 2022 431 ci dice che è in corso di revisione anche questo limite il percorso è esattamente identico perché vado a identificare l'esposizione del lavoratore e la colloco rispetto al valore limite di esposizione professionale la silice la silice c'è un problema scusami se ti ho se ti ho interrotto c'è un problema per la silice libera cristallina perché perché non si vende tal quale nel senso che non è un prodotto chimico commerciale ma è qualcosa che origina dall'attività lavorativa perché l'efficacia negativa della silice libera cristallina inalabile è al momento in cui viene prodotta deve essere fresca di produzione altrimenti poi diminuisce il suo impatto negativo quindi difficilmente saranno reperibili per coerenza con quanto esposto valori diciamo di registrazione DNL DNL o DML ok chiuso qui seconda domanda in fase di demolizione di centrali termiche laddove ci sono sostanze chimiche da smaltire come bisogna comportarsi la gestione dei rifiuti è diciamo un aspetto particolare perché dovrebbe essere valutata nell'ambito della valutazione del rischio da sostanze pericolose per lo smaltimento dei rifiuti occorre identificare l'attività produttiva e la tipologia del rifiuto che viene sintetizzata in un codice CER che deve accompagnare il rifiuto da chi lo ha prodotto a chi lo trasporta al luogo dove viene depositato o diciamo utilizzato per la termovalorizzazione o la valorizzazione come materia prima secondaria quindi nella fase di smaltimento di una centrale termica ci saranno materiali ferrosi ci saranno coibentazioni ci saranno se non c'è più la centrale termica e non ci sarà più magari ci saranno reattivi per l'addolcimento dell'acqua o per la prevenzione della formazione di di alghe e quindi quei prodotti hanno in funzione del ciclo produttivo di origine e della loro natura chimica hanno un codice share specifico suggerisco di mettersi in contatto con l'azienda che fa trasporto e smaltimento e concordare con loro i codici corretti ok poi c'è un'altra domanda che si rifà quella prima sulla silice e quindi chiedeva come ci si come interfacciare il discorso soglia con quella attualmente attribuita alla silice pari a zero se la silice libera cristallina viene prodotta nella sua come dire versione dannosa durante attività lavorative è chiaro che esistendo una curva dose risposta uno potrebbe stimare la presenza o meno di un valore di soglia la silice pare che questo valore di soglia almeno non ce l'abbia silice libera cristallina frazione inalabile quindi al di sotto di una granulometria concordata perché è diciamo una convenzione la definizione delle frazioni granulometriche delle polveri l'obiettivo l'obiettivo è quello di portare a zero l'esposizione quindi se si produce durante operazioni di perforazione o di intervento meccanico su superfici e si può produrre il suggerimento è quella bagnatura o della superficie dove si opera o l'aspirazione estremamente localizzata teniamo presente che in ambito di igiene industriale quando si parla di aspirazione il parametro che ci indica l'efficacia del sistema di aspirazione è la velocità di cattura quella velocità che annulla la velocità di emissione dell'inquinante nella direzione dell'operatore esposto ok poi cambiamo non cambiamo argomento ma cambiamo sì poi alla fine vorrei sapere quanto ho vinto eh quanto hai vinto quanto hai vinto vinto tanto perché vedo che comunque c'è sempre tantissimo interesse sì no no io ringrazio ringrazio dell'attenzione e ti fanno comunque anche i complimenti per la professionalità e per la chiarezza delle informazioni grazie cose che non sempre l'autostima cresce grazie quindi qualcosa è arrivato di ritorno c'è parlavano nickel cancerogeno in tutte le sue forme quindi solubile insolubile metallico non ho approfondito questo passaggio parla di nickel e i suoi composti quindi sicuramente si baserà sulla frazione di nickel presente all'interno del composto la rilevazione avviene per per il metallo ok poi chiedono di specificare i riferimenti dove si parla di valutare la sostituzione del prodotto chimico è il decreto 81 se io debbo eliminare la gente pericoloso o devo ridurne l'impatto come posso fare è la sostituzione a meno che io non come dire non produca altre cose se io debbo produrre un giocattolo facciamo un iperbole un giocattolo a partire da plastica devo aggiungere degli additivi e questi additivi sono cancerogeni sempre un iperbole non è un esempio reale io devo trovare degli additivi che non siano cancerogeni per ridurre l'impatto quindi una sostituzione la devo fare perché perché il mio obiettivo è produrre il giocattolo con plastica che sia morbida perché perché il bambino quando tocca il giocattolo morbido sorride e gioca tranquillamente questo è il concetto di sostituzione sta scritto nel decreto 81 quando mi si dice eliminazione riduzione del pericolo poi chiedono se per la gente CMR non esiste una metodica per la relativa determinazione in aria come posso dimostrare che il mio personale non è esposto beh diceva Galilei se puoi misurare misura se non esiste il metodo di misura inventa il metodo di misura credo che non sia allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica chiederei che fosse fatto un esempio di agente che non ha un metodo per la determinazione negli ambienti di lavoro possiamo parlare di una difficoltà riguardante per esempio una forma fisica dell'agente ovvero le nanoforme perché perché è tutto un percorso differente di campionamento e di analisi ma invito chi ha fatto la domanda a specificare quale è l'agente e ci metteremo in contatto per trovare il metodo analitico nell'ambiente di lavoro ok poi chiedo per quel che riguarda invece l'esposizione da fumi di saldatura la IARC la IARC li identifica come cancerogeni di tipo 1 è pertanto necessario anche in questo caso l'obbligo di compilazione del registro degli esposti ed esistono dei limiti di soglia allora la definizione fumi contiene in sé la soluzione del problema per un semplice motivo perché se io per fare saldatura utilizzo una lega quindi una bacchetta di saldatura io avrò una composizione quando io procedo alla saldatura vaporizzo i componenti della bacchetta e li mando in come dire nella corrente aeriforme quando si raffredda il vapore della bacchetta di saldatura si ha la condensazione successiva delle varie specie metalliche che componevano la bacchetta io posso avere nickel cadmio cromo boro altri altri diciamo metalli che hanno una temperatura di fusione differente la bacchetta viene costruita come lega per fondere ad una temperatura definita e quindi la composizione mi garantisce una prestazione tecnologica quando io vado a esaminare i vapori non troverò la stessa composizione della bacchetta e questa è la definizione dei fumi i fumi del camino sono legna che brucia e se vado a esaminare la corrente gassosa troverò carbonio che non è legna quindi l'analisi dei fumi di saldatura è fatta sulle specie metalliche che compongono le bacchette io conosco dalla scheda tecnica dalla scheda dei dati di sicurezza la presenza delle specie metalliche e vado a fare la determinazione delle specie metalliche nei fumi di saldatura dove trovo dei cancerogeni avrò sì un valore limite di esposizione professionale vedi il nickel oppure vedi il cromo no cromo 6 alcuni sali di cromo 6 erano utilizzati nelle bacchette di saldatura e quindi sulla base di quello che è la concentrazione del metallo rilevata nella corrente aeriforme derivante dalla produzione di fumi di saldatura io stabilirò se il soggetto è sopra sotto il limite di riferimento se deve essere considerato io l'esposizione di oggi ha detto il medico competente che conosce la curva dose effetto della specie chimica valuterà se inserirlo o meno nella categoria degli esposti e quindi attivare diciamo la scheda sul registro degli esposti che riguarda il lavoratore che fa saldatura spero di aver risposto bene e invece chiedono per quanto riguarda l'assorbimento cutaneo per il quale molto spesso non ci sono informazioni come ci si può comportare l'assorbimento cutaneo è un problema diciamo anche operativo perché perché la valutazione dell'assorbimento cutaneo può essere fatta come nel caso per esempio dell'HACCP per passaggio di tamponi su superfici o sulla pelle dell'operatore e quello è un'indicazione del potenziale di deposizione diciamo sul derma può essere fatta attraverso il lavaggio delle mani io faccio lavare le mani all'operatore e la soluzione che ne viene fuori l'analizzo per la presenza dell'inquinante può essere fatta su tutto il vestiario per avere una superficie più estesa o su parti separate per indirizzarmi poi dove andare a fare degli approfondimenti non esistono standard questa è la cosa critica si parla di valutazione anche del potenziale contatto cutaneo ma non esistono standard di riferimento per il campionamento però come dire la normalizzazione di un campionamento limitato quale quello delle mani quale quello del pad all'intero corpo fatto salvo sapere quale è la superficie complessiva della pelle esposta e quindi diciamo è un problema portare a termine una campagna di misurazione dell'esposizione cutanea di un lavoratore ecco su questo noi nel 2023 quindi l'anno scorso abbiamo fatto un evento insieme a Prevor Prevor è un'azienda francese una multinazionale che si occupa proprio di dispositivi per rischio chimico cioè per poi quello che è il lavaggio a contatto con agenti chimici sia per la parte cutanea che per la parte oculare è un'altra parte che può succedere che ci siano dei problemi sì 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 lì ci sono presidi quando c'è la potenzialità di esposizione oculare a irritanti e a diciamo diciamo attraverso soluzioni monouso diciamo in fialetta oppure diciamo docce e lavaocchi sistemi in quel caso loro ci hanno fatto vedere che cosa succede e quali sono operativamente non è che hanno buttato un agente chimico su una persona ma quello che hanno fatto è stato appunto mostrare come ci si può quali sono le attività di intervento di emergenza poi perché anche il tempo è un fattore importante per essere il prima possibile operativi quindi chi vuole può entrare nella nostra pagina del sito sotto atti degli eventi e trovare la registrazione video di quello che si è fatto quindi questa è un'altra attività collaterale importante vedere un altro aspetto sì il problema dell'esposizione cutanea è che comunque viene indicata la necessità di una stima ma procedere a questa stima è anche più complesso del fare una campagna di misure diciamo degli aeriformi perché uno dovrebbe valutare l'esposizione inalatoria attraverso il campionamento degli aeriformi e poi la potenziale esposizione cutanea considerando diciamo la manipolazione e l'esposizione anche all'atmosfera si parla per il benzene di un assorbimento diciamo 50 e 50 per via inalatoria e per via termica quindi a volte può essere un importante veicolo la pelle per l'introduzione della gente nocivo nel corpo umano poi ci chiedono devo chiedere fornitori sds aggiornate per verificare la presenza di interferenti endocrini la scheda dei dati di sicurezza deve seguire il prodotto fin dalla prima fornitura non mi si può dire la vai a scaricare sul sito questo dice il regolamento Riccia dice anche se intervengono modifiche integrazioni e sono intervenute proprio per la parte degli interferenti endocrini c'è adesso l'obbligo di indicazione in una sezione della scheda dei dati di sicurezza il fornitore deve fornire obbligatoriamente la scheda aggiornata a tutti i clienti che ha fornito nell'anno precedente nei 12 mesi precedenti quindi è obbligo del fornitore fornire all'atto della modifica la scheda aggiornata poi se il fornitore ha fornito un anno e mezzo fa perché l'utilizzo di quel prodotto non è così elevato all'interno del ciclo produttivo è chiaro che io so che c'è stato questo aggiornamento contatto il fornitore e chiedo se c'è una scheda di sicurezza aggiornata sono io che devo farmi parte attiva perché seguo il regolamento rich come ho esposto oggi so quali sono le modifiche che intervengono e quindi i miei obblighi come utilizzatore a balle ok il mio obbligo è quello di essere aggiornato su tutte le caratteristiche di pericolosità di un agente chimico e quindi se lo so per altre vie chiedo ai miei fornitori la fornitura della scheda dei dati di sicurezza aggiornata è pacifico ci chiedono se puoi dare il tuo indirizzo mail per contattarti perché hanno una domanda da farti lo troveranno sul sulle diapositive ok primo no no fermati fermati facciamo pubblicità al sito Aias assolutamente sì perché ad oggi se si va sul sito del di Aias che sulla pagina che riguarda i gruppi tecnici specialistici c'è la denominazione del del gruppo una breve presentazione e il contatto ok poi chiedono la mail che è ancora quella mia personale quindi o sulle diapositive che saranno messe nella nella pagina degli eventi o tramite la pagina del sito dei gruppi tecnici specialistici ok altrimenti carta e penna p.desideri chiocciolachimici.it più semplice di così più semplice di così io ringrazio tutti perché appunto siamo arrivati ti fanno ancora i complimenti per per l'attività e quant'altro chi vuole appunto può scrivere avere magari domani ha pensato a delle domande da fare può tranquillamente contattare Pasquale senza alcun problema quindi se sono associati c'è la Aias risponde Aias risponde se non sono associati visto che il gruppo tecnico specialistico si occupa di rispondere a quesiti anche diciamo provenienti magari dall'esterno perché è nostro interesse sapere quali sono gli argomenti tra virgolette di punta per la gestione del rischio mimico nessun problema assolutamente io sono a disposizione e i componenti del gruppo sono altrettanto come dire contenti di potersi cimentare accrescere la loro esperienza se se ci sono quesili da parte di chi che sia è questo il nostro il nostro motto perché qualsiasi domanda accresce prima la nostra esperienza e poi soddisfa un'esigenza di chi la pone l'associazione sono una cosa fondamentale il supporto che si dà ai soci la condivisione delle informazioni e l'attività diciamo di networking poi che ci può essere tra le diverse persone quindi queste sono le cose spesso diciamo anche verso grandi aziende ci sono nessuna domanda è stupida non è che mica detto che ci sono delle domande assolutamente deve fare delle domande assolutamente no 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 qualsiasi quesito merita merita una risposta e lasciami tre tre secondi di tempo per dire prego aderite al gruppo tecnico specialistico rischio chimico punto questo è anche l'obiettivo dell'evento di oggi pubblicizzare l'attività assolutamente che ci sono persone raccomandabili almeno a condurlo e poi vedere se c'è la possibilità di attivare diciamo non delle collaborazioni ma dei lavori comuni sempre l'ottica di divulgazione certo va bene allora sono le 18 e 16 sono ancora tante persone collegate io ti saluto e ti ringrazio Pasquale grazie a voi del supporto e grazie a tutti i partecipanti grazie a tutti i partecipanti ci vediamo come Aias al prossimo appuntamento che è il 4 di marzo lunedì c'è ancora qualche posto disponibile dedicato invece all'IDP e nello specifico agli ortoprotettori quindi attività verso l'udito con 3M con uno specialista e con Assosistema grazie a tutti e buona serata arrivederci arrivederci grazie a tutti